L'ite in famiglia con intervento delle forze dell'ordine e fuga di uno dei coinvolti. È accaduto stamani a Gubbio, nei pressi del parco di San Benedetto, nella primissima periferia cittadina, dove un giovane, di origini marocchine ma residente nella città di Pietra, già noto ai militari, dopo un acceso di verbio con i conviventi, è scappato dopo l'arrivo della polizia municipale e dei carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione richiesta pervenuta al 112. A lanciare l'allarme la nonna del marocchino, che è stata soccorsa dagli operatori del 118. Agenti della municipale e militari dell'arma hanno tentato di mettersi sulle tracce del fuggitivo, controllando sia il parco che il parcheggio seminterrato al di sotto di esso. Va nelle ricerche. Non si tratterebbe della prima lite familiare. Il giovane, infatti, già nelle scorse settimane, si era reso protagonista di episodi analoghi. Si attendono, nelle prossime ore, dei provvedimenti a suo carico.